Dunque, vi avevo promesso una notizia importante per oggi, il comunicato sentimentale che voglio farvi è proprio questo. Quante persone tutti i giorni hanno un nuovo flirt? Chiaramente pure a me questo capita, però prima di uscire pubblicamente con una relazione ufficiale devo essere sicura di due cose, ovvero la prima è che i sentimenti devono essere reciproci, chiaramente. La seconda è del valore del partner, quindi se TaylorMega non fa uscire pubblicamente un proprio flirt non fatevi troppe domande, è solo perché è semplicemente un flirt, nulla di più. Quindi se non sono sicura del valore di una persona, non andrò mai ad iniziare una relazione. Però magari si può instaurare l'alchimia giusta sessualmente parlando. Ne approfitto per dire a tutte le mie ragazze, anzi a tutte le donne in generale di non cominciare una relazione ufficiale se non siete sicure al 100% del valore del vostro partner. E con questa, ciao belli! Cioè ragazze, la mia è una vera e propria raccomandazione. Non iniziate una relazione se non siete sicure che lui abbia almeno la metà del vostro valore.